Persa una grande opportunità. L'esponente di Fratelli d'Italia Massimo Donofrio commenta amareggiato la notizia del mancato ottenimento di un grosso finanziamento per il mercato ortofrutticolo di Nocera Pagani grazie alle risorse del PNRR. La struttura infatti non ha partecipato al bando. Donofrio ha sollevato il caso per dare uno stimolo sulle opportunità le quali possono accedere le amministrazioni dell'agro. La graduatoria vede approvate le richieste di 32 mercati ortofrutticoli che grazie ai fondi europei potranno migliorare la loro capacità logistica. Il mercato di Pagani e di Nocera è un asset è un volano economico fondamentale per il nostro territorio e non solo di Pagani ma dell'agro come ben diceva. Non a caso gli enti che per anni hanno gestito e governato l'ente mercatale era proprio l'insieme di più comuni che a mio avviso sono tutti in questo momento responsabili in modo solidale rispetto alla perdita di tante occasioni di crescita e riscatto nella fattispecie quest'ultima legata ad un bando del Ministero dell'Agricoltura in funzione dei fondi prevenuti in Italia da PNRR, da Next Generation EU e una svista, una distrazione, una leggerezza grave che ci ha fatto perdere decine di milioni considerato che comuni come Sant'Egidio hanno ottenuto circa 6 milioni per il proprio mercato. Io ho sollevato questo tema perché operatore economico di professione non posso tollerare che nella mia città non si concorra all'ottenimento di questi fondi e fa male e c'è amarezza nel vedere che tante realtà hanno avuto questo contributo. È sbagliato sostenere che Pagani non poteva concorrere, Pagani lo poteva fare anche il comune di Nocera che è altrettanto responsabile a mio avviso, perché l'ente gestore è in liquidazione. Tutti gli altri hanno partecipato come enti proprietari dell'asset, quindi poteva fare il progetto il comune di Pagani di Nocera o insieme, meglio ancora. Non avendolo fatto è stato grave. Se mi rispondono che non si poteva accedere perché la società è in liquidazione, è grave doppiamente. Prima perché non è così. Due perché questa stagione di liquidazione dura da sette anni e non capisco il senso e comporta poi perdite di opportunità così importanti che nuociono le economie del territorio.